Gian Pietro, il PD resta fermo sulle proprie posizioni, ex Cofa ma anche altre zone della città, c'è molto secondo voi che non va nel DUP presentato dal sindaco Mascio? I due fronti aperti, cioè l'ex Cofa e il trasferimento del liceo Missico di Belisario, sono due fronti davvero passicciati perché da un lato sull'ex Cofa oggi leggiamo che dentro l'università c'è, forse è la notizia, che una parte del campus di Vialipindaro non può essere realizzata perché ci sarebbero delle problematiche di carattere idrogeologico che però noi non conosciamo, ma si propone di fare un nuovo campus in un'area di esondazione del fiume, quindi a quel punto sarebbe anche forse peggio della situazione attuale. E invece poi sul trasferimento del liceo Missico di Belisario all'ex Scuola Villa Fabio abbiamo capito che in realtà nessuno lo vuole e quindi in realtà noi crediamo che questi due punti vadano stralciati, ma per fare un passo avanti. Ma il MIB dal 2018 ha proposto alla città, alle amministrazioni un progetto legato all'ex ENAIP, quindi tutta un'altra zona quella in cui insistere il MIB, il progetto c'è. Quindi se il sindaco come afferma e sono certo che crede a quello che afferma, il diritto allo studio viene per primo, allora noi vogliamo che all'ENAIP dove la scuola ha individuato aule e spazi deputati sia collocato il MIB. E non sfrattando un'altra realtà in piena attività che produce tantissime inizioni importanti, servizi importanti per la città, legate alle politiche giovanili, allo studio. Spostare tutto l'intero DUP dalla parte operativa alla parte strategica è un gioco di illusionismo, perché poi in concreto le cose rimarrebbero tutte lì. E a noi queste cose non ci piacciono. Chiediamo al sindaco di fare il sindaco e non di sottostare ai bisogni degli altri. Lui non ha un'idea di città e quindi dice di sì a tutti quelli che dicono di avere un'esigenza. Le esigenze vanno tutte prese in carico e contemplate, ma va fatta un'operazione complessiva sulla città, ma vediamo che non si è in grado di farlo.